Ero Joe Ragazzi e ragazzi rieccoci qua su Nia Replicant allora siamo sempre qua alla fabbrica però come ho detto ho fatto un bel giro nella fabbrica, ci ho messo un po' ho raccimolato tutte adesso non c'è scritto, erano 10 leghe di titanio necessarie a completare questa missione poi avevamo un'altra missione da completare a facciata, poi ci andiamo e c'è rimasta poi la pietra magica, però dovevo parlare con popola, questa lasciamo perdere l'episodio scorso abbiamo svolto mi pare quella missione secondaria legata al tempio, se non sbaglio un tempio nel deserto però ora completiamo ci ho messo un po' carissimo ah lo ho messo mi ha messo allora vi faccio che coltello è era per uno di fronte mare ok questo è un po' Ok, ottimo coltello, va bene Possiamo consegnarlo a fronte mare Però Eh, io andrei comunque Prima facciata Poi andiamo a fronte mare Vabbè, poco importa, abbiamo una consegna da fare Ti dicevo, andiamo prima magari a facciata Completiamo quella missione per non mi ricordo chi Deserto E alla fine andremo a parlare con Popola Anche se Popola ci parlerà sicuramente Della missione principale prima Non di quella secondaria che abbiamo attiva Mi vediamo Io come sempre, Aya Cerco di Farle tutte Le missioni secondarie, anche se ho idea Che alla fine ne rimarranno fuori due Anzi, no, sicuramente Una è sicura, quella di Iona Non possiamo completarla Invece l'altra dei fiori è troppo Diciamo, per me è troppo impegnativa Ecco Magari un altro, no? Quindi ne rimarranno fuori solo due Ma Con le armi dovremmo essere a posto Nel senso che ci mancano solo quelle legate alle missioni Ma Io non No, quella dei fiori sicuramente non la dà La Quasi dei fiori Avevo visto la ricompensa Era in denaro L'avevo cercata su goal Per capire cosa bisognava fare Per creare i fiori Lunari rosa L'altra No, quella di Iona Non saprei Ma Secondo me no Secondo me no Mai Anche perché nessuno mi ha detto niente Sennò Dovrei ricominciare da capo il gioco Era lui, mi pare Quanto ammazza Cioè Cioè ci Abbiamo Ah sì, poi sono salito di un livello Mentre Cercavo la lega di titanio 312.000 oro Ormai Posso incontrarci una città direi E quindi Cioè un po' superfluo Fare quella dei fiori Mi pare che la ricompensa è Credo 10.000 O 20.000 Avevo letto Quindi Non ne abbiamo bisogno E io che avevo paura Di non riuscire a comprare tutte le armi Paura infondata Guarda adesso cosa faccio anche Come ho consumato praticamente tutto Ecco Mi prendo Un guinto medicinale E erva medicinale Ecco Così ho fatto il pieno Acqua mi Opla Puro Adesso andiamo a fronte mare Concludiamo Anche questa qua Del coltello Qua altro Non ho visto Secondo Ah Ormai ci siamo Secondo me Per quanto riguarda le missioni secondarie Perché siamo al 91% Una cosa ecco Che sicuramente farò però Prima di proseguire Con la trama principale E fare il mondo Dell'invalorolo riciclato Che lì Un'arma me l'aveva data Meglio arrivare fino in fondo Non so se ne da altre Dobbiamo arrivare fino in fondo Io purtroppo Non Non ce l'avevo fatta Ero morto parecchie volte Adesso spero Di essere al livello giusto Anche perché con quest'arma Facciamo parecchio danno Allora Era di qua La taberna Infatti Dai Non riesco a prenderlo Ok Eh insomma Un po' fuori di testa Beh se per questo E anche senza madre E senza fratello Quindi 20.000 pezzi d'oro Ok Altro no Non sembra avere altre missioni Ottimo Ora torniamo pure Al nostro villaggio E andiamo a parlare con Popola Fa mettermi vedere Per sicurezza Eh no cosa dice E 94% Adesso questa spero di completarla La pietra magica Eh Rimanendone fuori due Secondo me Dovemo avvicinarci al 98 No Non penso 99 Secondo me 98% Ah salvo Salvo Salviamo Salviamo Qua in biblioteca è un po' che non guardo Adesso Nogu Nogu Che Nogu Che Nogu Cosa? Sì, non c'è nulla Cioè, volevano forse confessare? Eh, poi come... Popolo è un po' preoccupazione E poi è che bella idea Allora... Scusate Scusate... Scusate Grazie Aspetta... Popolo, Scusate E Scusate Ma Tore Sa Scusate Ah, io ci devo andare al santuario perduto Ok, che è la nostra destinazione principale praticamente Allora, però facciamo così Andiamo, vediamo Al mondo dell'invoca riciclato Vediamo se riusciamo a farcela Ok, voi non l'avete visto Ma io almeno una parte, sì Perché se no E se no dovrei E no, vediamo che comunque dovevo tornare indietro No, vediamo che sto pensando di livellare il più possibile Perché adesso sono a 83.348 di esperienza Secondo me Non credo di andare su di livello Però se no proviamo Proviamo un attimo Se vedo che non ce la faccio Magari per temporeggiare un attimo Facciamo l'altra missione Pozioni di guarigio Vediamo Si generano da nulla sti oggetti Allora Dove praticamente impersoniamo È l'altro personaggio Ecco Ok Salvare sì Vabbè, ok Sì Entriamo Sono tutta una serie di battaglie Però Obu Ah, questo è il mondo di voi Quello riciclato Creato per impedire la completa distruzione Ecco Qui ci sono una serie di scontri Adesso Questi sono morti subito Com'è? Ui Aspetta Erano già a terra Ho fatto il pieno di cure Beh, sono morte praticamente subito Quindi forse ci siamo Queste quando le avevo affrontate la prima volta Erano decisamente più resistenti Colverizzata Purtroppo i nemici non rilasciano nulla Almeno mi pare Quindi le cure me le devo far bastare Ok Eh, con quest'arma decisamente devastiamo Ok Ok Poi sì, c'era comunque della lore Al completamento Di ogni area Mi pare Ok Aspetta Aspetta Morto Sì Eh sì Eh sì Sono un po' Qua Ora che vado giù Dovremmo essere però quasi in fondo Aspetta 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 Ok Ok Che è rimasto lui Ok Aspetta Aspetta Ok 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 Olè ok adesso ci cubriamo 30% siamo ok siamo in fondo praticamente ok siamo al boss aspetta qualche tipi di strelli muoiono subito attenzione quello ho già iniziato a fare le sue cose ok preso allora togliamo parecchio direi però devo stare attento perché secondo me togli anche lui ah beh pensavo peggio aspetta ok non si sa mai ok ok è ottenuto arrivo a vicinare per 3 la necografia un destino perduto un libro bianco una falsa verità eh sì esatto ogni area poi c'è un qualcosa della lore quindi è importante vediamo questi vanno giù subito aspetta aspetta così aspetta fai fare la prova ah mangio subito sì c'è una colorazione strana aspetta cerco di buttarli a terra questo si rialza questo è morto ok 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 a fine muore subito fa vedere è morto no però va a terra ah no ok preso no eh l'ho preso di striscio ok attenzione prendiamo sì perché comunque il cambio di area dà 3 erbe non mi ricordo se sempre quindi usiamo prima usiamo prima le erbe va normali cioè ne prendo un'altra si sa mai buca buca donna ok in qua ok ah basta tre erbe soldati di sale che invocano la morte bianca il loro nome è legione coloro che hanno portato l'oscurità nel mondo no ah ma questi eh là là questi in colpo sono morti aspetta però eh rompono le balle con la magia qua dov'è dov'è ok no ce l'ha trasportato preso buca no l'ho mancato ok 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 prendiamo un'altra prendiamo un'altra qua ah è morto via devastiamoli poca vita perché se perdo dammi questo te comincio da capo eh troppo non me ne ho accorto l'ho così preso cavolo ma scusa muoiono anche così aspetta e dov'è te le trasportano ok questa è la barriera vabbè ah basta ok devo incinare per tre colpo colpo del drago ha portato la morte nel mondo accordandogli il potere della magia eh l'or su su prima di molto prima di near replica aia aspetta facciamo così boh ok c'ha io per sicurezza aspetta no si ok vieni qua vieni qua boss ah ho capito questo qua aspetta avevo battuto così però aspetta togliamo non molto facciamo una cosa pillola di forza ne ho quattro e io però non vabbè proviamo in effetti sì ti sfondo la difesa eh ma è la corazza che lo rende così porca vacca resistente mi ha preso ah ma non mi ha tolto molto pensavo peggio meglio perché non so cosa mi aspetta dopo non me lo ricordo più perché io ero riuscito a batterlo poi ve lo dico fin dove sono arrivato tocca ok lui l'avevo battuto ok la malattia oscura macchia il futuro il viaggio per tornare a recipienti senza anima attenzione aspetta provo a pararmi ma ho dato un'erba questo qua eh sì però con quest'arma che sfondiamo la difesa tanta roba anche qua attenzione ehi vedete un po' eh attenzione beh non tolgono molto però aspetta se mi paro faccio un una bella un bel contrattacco eh se riesco a pararmi al momento giusto eh esatto aia oh no aspetta il mago no eh questo qua c'è l'ha già rotto eh cavolo oh è il mucchio oh erba se qua ne lasciano l'erba oh quanta vita ha questo qua oh no no attenzione oh non mi vedo aspetta 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 è morto meno male aia ah lì c'è dell'erba ok ahia ah ok la prendiamo la prendiamo ah questi aspetta ecco ecco ancora questo qua ancora 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 aspetta insisto eh maia che non muore è morto oh molto bene però quello là dà fastidio aspetta 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 quello lì però è lì però è lì porca lacca c'è un puzzolo lì della roccia aspetta 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 oh molto bene no madonna no perché se è caduto nella sabbia non so se è morte o forse no si è bloccato qui no uh sono caduto ah no ok meno male non è morte definitiva ok ecco qui ero arrivato oddio contro questo qua aspetta che sto con la vita piena si sa ma ecco quasi e questo qua mi aveva ucciso e poi dovevo rifare da capo ok e non mi toglieva così poco cioè non li toglievo così tanto ok no miralo vai sfruttando il controattacco quindi mi ha fatto ho avuto l'allenamento con quell'ombra là del deserto ok oh ah basta è ottenuto l'abbigliamento kabuki mille punti esperienze ah ah si questo avevo notato che i nemici non davano l'esperienza quindi te la danno ogni tot ah no abbiamo finito ah no c'è un'altra porta quindi abbiamo fatto un'area va bene allora aspetta si fammi uscire perché salvo e anche se salva lui ma non ho capito dove non ho capito dove perché in teoria il saltaggio automatico non c'è aspetta fammi salvare forse abbiamo completato appunto un'arena si può dire quindi adesso se rientro ok 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 entriamo si nella seconda porta l'apocalisse ha creato due mondi uno senza il giorno e l'altro senza la notte ah si è vero questo lo sapevo cioè che in questa senso sono state le seguenti azioni cristallo stregato purca che danno cioè non posso usare la magia la lama della tigre adesso non posso attaccare però posso usare la magia mi ha preso protezione della tartaruga non posso parare però adesso posso nuovamente attaccare ok dopo evasivo oh no non posso schivare si è proprio al momento sbagliato abbastardata aspetta balzo del coniglio non posso saltare però adesso posso schivare mi ha preso no eh mi è venuto automatico ah però ti fa rifare da ok ma lontano abbastanza ok non può usare la magia aspetta che mi curo ok lasciami finire la mossa però e allora cambiano spesso e allora ok questo mi va bene ok è andato per 5 addirittura nero e bianco 13 patti le forme dei recipienti vaccino mentre attraversano il tempio ma il tempo e lo spazio cioè io nel senso la terra è metà al buio e metà al sole praticamente non gira più questo lo sapevo ah no dove sto andando spesso sto parlando attenzione aia e ho rifatto il pieno ottimo qui non si va ah non so aspetta no perché non lo trafinge porca vacca ok l'animazione mi difende ok qui fatto se devo andare di là no qui non si apre aspetta mi puro questo è corazzato cavo questo non vacilla minimamente aspetta oh erba ce n'è un'altra no l'ho presa oh alleluia qui adesso quando li sconfiggiamo tutti le draiche le porte lega di titanio addirittura dove è morto vai ho sbagliato il tasto vai erba ancora qualcun'altro ecco questo qui però non si va qui è un'altra vabbè vediamo se c'è qualche erba lega di titanio addirittura lega di titanio addirittura dove devo andare però non c'è una mappa mi sono un attimo forse da qua venivo non so aspetta erba no mi sa che sono venuto di qua bocca tutto lì no vai 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 ahia 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 qua è un'arena sarà il boss no vado vado aspetta eh ecco perché ne da 5 qua magari dov'è no questi no questi no aspetta questi con l'armatura no no aspetta un attimo quanti sono quanti sono i due andiamo casino prima ci ho messo tre anni a sconfiggerlo se no potrei potrei poi li colpisco così la stanza è grande a chi a chi gli ho tolto l'armatura ahia oh attenzione finito la magia finito la magia finito la magia questa non mi ricordo se no non assorbiva mi sa questo eh no ma a parte che anche la barriera durerebbe poco eh lasciami la lancia ah terra 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 oh questo è morto vai a terra ok basta o c'è il bo basta 5 erbe vicinari la canzone la canzone dell'uomo è stata spazzata via al suo posto l'ullo di una creatura disumana la macchina la macchina oh ok ok no sono un pelo più resistente le macchine della fabbrica uno di cerpame ci vuole qualche colpettino in più direi che ne ho ammazzate così tante ok 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 sto cercando di sparmiare un po' di vita attaccare così di furia non sempre va bene infatti mi becca sempre si comunque sto diciamo sto libro questo diario andava fatto a fine gioco per forza quando sei più forte ok manca questo no ok abbiamo ad arrivare no attenzione E' alternando un po' così La lancia con l'attacco Ok Questi in teoria Erano molto fragili Allo sparo normale Però vedo che Eh no sono più duri Sono molto più duri Ma molto più duri Orca vacca Eh ci ha messo un sacco No coline andavano Il primo di Charpame 8-9 colpi 10 colpi così E andavano Però noi lo facciamo uguale Allora che volano Ok Quante cure ho? 5 Voi No Grazie a tutti. Eeeh, quanti sono qua? Eh, sono tanti, mo. Beh, io continuo a muovermi così, insomma, se no poi. Ma quanti? Andiamo, faccio così. Madonna. Aspetta. Ok Andato Mettiamo Aggruppatevi Ok Aspetta Vai Insomma qua ci vuole un po' di pazienza Aspetta che si ricarica un po' Ok 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 Non ne sono rimasti Basta Vai Tutti in fila Dai Ecco E' rimasto Quello E' perso dal nulla Beh Oh Ecco è andato giù Basta O Dov'è Non Ah Ma vai giù Ok Forse non lo dà per buono Mi sa No infatti Deve morire per forza Ok E' ottenuto la spada a due mani Lamento dello stolto Ah Dava un'arma Cielo e drago cadono uniti nel giorno della fine del mondo Ma qua Siamo all'inizio Aspetta Porca Eh Ok Come rocola Io qui Secondo me Sono solo due Però Secondo me potrebbero diventare di più E Infatti Tutte corazzate così Insomma Ah forse parando Però in effetti Aia Allora usiamo Milo la forza Però non so quanto Aia No non voglio morire eh Allora usiamo Questo No se mi attacca uno E non quello però E uno normalmente Ok E ne ho presi un po' Attacchiamo così Forse è meglio Guarda Guarda qua Aia Ma guarda E dopo mi conviene uscire e fare il pieno Pieno de roba Aia Caraca Spè Spè No Eh ci ho provato a Contrattaccare Eh non Ne vedo arrivare Questo Nere Oh è a terra A terra A terra A terra Permesso Ok Eh non è morta Però Qualcuno a terra Si si E gli diamo solo un colpo critico E basta Eh no Così non va bene Una terra Nessuno Ma dove le trovate le corazze Dal fabbro Io non lo so Qua Dimmi che è morto No Ok Ho tolto Abbastanza Vabbè Eccola Oh niente Nessuno vuole morire Qui Aspetta Non per terra Niente Oh prima o poi Prendendole tutte Cioè voglio dire Qualcuna Ci lascerà la pelle No Aia Vai Linguento Oh Oh Contraattacco Te Oh Finalmente Questa è morta Aia Aia Ok un po' L'ho preso Usiamo questa Che altro spero che dopo Non ci sia più niente Allora Basta Devo tolare Guarda Guarda Si buttano No No Allora Aspetta Ma aveva preso Il comando Vai Ho preso un po' Ok Facciamo Aspetta Che ho poca vita E pillo La forza Aia Ho fatto volare via Si fa così Beh Allora Aia E' morto E' morto E' morto E' morto Cerchiamo di capire cosa fanno No Eh ma Pesò Aia No 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 Ah potevo Maledizione Oh Cavolo Morta Eh pian pianino Su Guarda Amici Toste Vai No Questa si sta rialzando Vai Questa è morta Ma quella là in fondo Ah Oh no Molta vita Tutto ho consumato Quasi Mamma mia Ecco Specie di boss E' da sola Ben corazzata Io ti tolgo L'armatura Va se è possibile Questa Madonna Eh Ah Ancora Uguale a prima Però con queste Ma con queste Mi sa che è peggio Porca vacca Oh 6 Più 1 7 Si Cavolo Ha dato l'arma Però C'è tanta vita Porca C'è tanta vita Ho vinto la magia Mi ha preso Sembrano Umbriache Oh Eh però Non gli ho tolto Tutta la vita Concentriamoci su Una alla volta Ancora 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 niente Ok Ok E morirà Poi Quanta vita Hai Oh ma Quanta vita Quanti colpi Gli ho dato Niente Niente Ancora In piedi C'è Ma tutti così Sono È un problema Stiamo qua Tre ore Conchè Non mi avvicino Io Oh ma Non muore A me sembra strano Ma è possibile Non penso Hai morta Però La madonna Quanta vita Hanno Quanti colpi Di grazia Gli ho dato Bellissimi Eh però Forse facendo così Accelero i tempi Perché Quella magia Gli spinge via E quindi Posso dare Il colpo di grazia Esatto E così Accelero i tempi Perché se no Aia Toglie anche tantissimo Volevo dire Eh ma si vede Che sono Più Più Corazzate Vai per terra Niente Io ho un po' Paura Fare il Contrattacco Oh Però forse Quante ne sono apparse Cinque Quindi probabilmente Più di cinque Cioè Queste basta Eh ci mancherebbe Ok Ok Sì probabilmente Per essere appunto Più forte A parte A parte il livello Dovevo potenziare le armi Però veramente Potenziare le armi Ho visto che È Palloso Cercare il materiale Giusto Al di là Dei soldi Che ormai Li abbiamo Perché uno Non sa dove Cercare Cioè Palloso Vai per terra Forca Va per terra Niente Ma Quando si deciderà Morire Costui Allora Vi ho risparmiato Un po' Della lotta È rimasta Solo un'ombra Ho cambiato Praticamente Le parole Ho messo Questa qua Questa Woololot Per spezza armatura Più 30% E l'altra Che da veleno Più Livello 1 Che ho pensato Così col veleno Almeno Anche se non faccio Danno C'è il veleno Che continua a far Danno E quindi Acceleriamo Un attimo I tempi Ma perché Veramente Dure Ma veramente Dure Molto Dure Cioè Se anche il veleno Fa poco Però È un danno Continuo Nel tempo Almeno Poi Spezza armatura Dovei rompergli L'armatura E quindi Senza armatura Dovei infliggergli Di più Vediamo Senza Questa vuole morire No Stavo Elagerando Ok Eh hanno Spero sia L'ultima E va che gli ho dato Veleno Si vede appena Con questa colorazione Strana Oh è morta Porca vacca Va Meno male Per cinque Ancora Purtroppo Non è finita Il sacerdote Marionetta Raccoglie le preghiere Maledette E lucide il recipiente Dove sono Ma Madonna Eh Ah ok Devo usare Waze Eh si Eh tipo Spara tutto Su binari Aspetta Non mi fa Non mi fa Mirare Vabbè Dov'espe Vabbè La magia Praticamente Infinita Ah eh Tutti in fuori Di continuare A sparare Così In automatico Buon caso Ok Alle spalle Eh si si Facciamo Continuiamo a fare Così Così In automatico Vanno Sui bersagli Almeno Poi Muoio tutti In un colpo solo Menomale Ancora Ci ha messo Un po' Di più Oh E di morì Ok Beh Vai 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 Ma Però non attaccano Non fanno nulla Strano Ok Oddio Il cinghiale Va Eh questo era duro Da ammazzare Eh Non per dire Ma Ok No Si è rialzato E quello Rimane lì Oh Spero Rimane lì Vabbè Non so Vabbè Dobbiamo fare Il giro completo Ok Estrelli Andate via Che sono Ah Ok Eh vabbè Là non c'è Ah no Si va che ci sono Arrivato Sono troppo Lontano Mi sa Eh si Ma Posto Abbigliamento Samurai Ah Abbiamo finito Mi sa 4000 punti Esperienza Pozione Guarigione Per 5 10.000 Pezzi D'oro Non mi servono Vabbè Eh Questa era Più tosta Eh Porca Ah ecco Un'altra porta Allora Adesso Esco Salvo Mi ricarico Di tutto Tanti soldi Ce li ho E ci proviamo Secondo me La terza Sarà ancora Più Più Difficile Mi sa Eh Eh Do Sto 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 Grazie.